Mario Mori, generale dei Carabinieri, ex capo del Rosso e poi del Siste, è indagato dalla procura di Firenze in merito alle stragi mafiose del 1993. A renderlo noto è stato lo stesso militare con una nota. Le stragi sono quelle compiute tra il maggio e il luglio del 1993 a Firenze, Milano e Roma. I magistrati gli contestano che, pur avendo nell'obbligo giuridico, non avrebbe impedito, mediante doverose segnalazioni e denunce all'autorità giudiziaria, ovvero con l'adozione di autonome iniziative investigative e preventivi gli eventi stragisti di cui aveva avuto anticipazioni.